Io non rischio è la giornata in cui il sistema di protezione civile del Comune di Prato mette a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze a tutti i cittadini della nostra città per condividere quegli atteggiamenti, comportamenti virtuosi nel malaugurato caso in cui dovesse esserci una scossa di terremoto o un alluvione in nostra città. Sono ipotesi ovviamente non pensiamo mai che possano succedere, ma sapere come ci si comporta può essere un val d'aiuto proprio al sistema di protezione civile nel caso dovesse intervenire. E poi è un modo anche per conoscere proprio il sistema che infiore l'occhiello nella nostra città, le associazioni volontariate ve lo compongono e anche per giocare e fare delle esperienze in piazza del Comune. Quindi sabato tutto il giorno dalle 9 alle 18 chi vuole può partecipare a questa esperienza e anche domenica sui social, nei canali social del Comune di Prato e non solo, partecipare invece all'evento online. Io credo che sia un buon modo per trascorrere qualche ora, conoscere questi comportamenti, è utile, serve a tutti noi, anche se speriamo davvero non serva mai mettere in pratica, ma avere questa conoscenza può davvero in alcuni casi fare la differenza. Ci vediamo alla giornata di Io non rischio.